musica buongiorno ragazzi prosegui managheri siamo al tour of slovenia lubiana lubiana cronometro questo la simuliamo e vediamo cosa combiniamo speriamo di far bene chiudiamo al 7th place vince bennett inchausty il nostro inchaustone ma noi arriviamo a 7 benissimo molto bene no sesti a 7 secondi scusate perfetto un buon inizio tappa 2 è bella tosta tappa 3 super tosta e tappa 4 finale dobbiamo far bene nella 3 e nella 4 maglia gialla con inchausty con il mitico bennett però il gruppo a un minuto e 16 è il gruppo di testa che mentre lascio tirare in maglia sky team sky e movistar e vediamo cosa riusciamo a combinare se riusciamo a recuperare a 9 km dal traguardo comunque il kuma c'è più 1 abbiamo tenuto bene in montagna abbiamo perso all'inizio qualcosa ma poi abbiamo piano piano recuperato e sono quindi positivo raga positivo sono in montagna 74 adesso crono 76 quindi questo è un'altra cosa buona e niente fiui stiamo recuperando bene penso un arrivo in volata il problema è che inchausty è veramente una bestia infatti io lo amo troppo questo ciclista mi piace troppo il mitico bennett però noi siamo nel gruppo che conta questo è fondamentale 3 minuti 31 dall'altro gruppo veramente si gode al massimo sono stato bravo a rimanere in questo gruppo qua quello che dovevo fare ok siamo nel gruppo principale siamo nella testa 3 chilometri 7 vediamo com'è l'arrivo è l'arrivo normale quindi sulla carta sono sfavorito mettiamo il gel qualcuno prova a partire vai mettiamoci al massimo vai kume e fra poco cominciamo lo sprint vai kume il kume prova lo sprint il kume non ne prova lo sprint ma il primo se n'è già andato purtroppo vai venezianone vai venezianone e come sta recuperando in realtà peccato il primo va a vincere il primo ci ha beffato quello di team sky penso catroia è partito prima maledetto eh sì noi vediamo se possiamo arrivare a podio niente si buonissimo terzo posto bravo e a tre secondi da bella in ciausti chi vince questa vince il tour abbiamo un più due e noi andiamo a stare solo che tranquilli io direi di non scattare fino all'ultimo attento in ciausti vediamo chiaramente la movistar cerca di portare su qua questo stronzo chiaramente ci prova io non posso permettermi di partire troppo prima purtroppo lo sapete ma voglio anche la mia scritta voglio qua su sui cosi prova anche moreno ma per il momento la maglia già la rimane a guardare devo stare incollato a benath incollati a benath come incollati a benath e benath se ne sta andando un pochino attenzione 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 c'è molta tensione beppe c'è molta tensione e qua vuole portarmi la borraccia ma non ce la può fare tanto attenzione abbiamo preso un minuto dai primi eh vabbè la movistar non riesce ad attaccare non riesce a anzi proprio sono crollati i gregari di in ciausti eh quello che ha un minuto la rischia di vincere la tappa anche il tour cazzo porca troia mi devo aspettare sono senza borraccia questo è molto negativo dio santo devo svegliarmi però eh il cume adesso ci prova il cume forse adesso ci prova il cume prova ad attaccare il cume prova ad attaccare signori il cume ci prova il cume ci prova adesso non sono valverde ma va bene vai di gel vai di gel il cume ci sta provando eroico il cume eroico eroico il cume eroico un cume veramente eroico dai cume indone dai dai cume dai prendi un po' d'ossigeno prendi un po' d'ossigeno mancano due chilometri e nove mancano due fottutissimi chilometri devo riposarmi un attimo e in ciausti è rimasto però bene è rimasto mi scatta adesso in ciausti vaffanculo va ci ho provato ragazzi ci ho provato peccato 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 vince in ciausti noi chiudiamo al sesto al settimo posto eh vabbè vediamo la classifica trovo più forte ragazzi in ciausti è riparare 78 in montagna io ho 74 e in ciausti è forte dappertutto collina cioè noi siamo delle mezze tippe in confronto forse ho perso anche il secondo posto sicuro di assoluto vediamo come completiamo l'ultima tappa è pianura quindi sull'ultima tappa non fa molto testo questa è la classifica finale vediamo nei giovani cavolo quello spero di tenere la maglia giovani dai dai bravo in ciausti bravo individuali siamo quarti ci vanno a tre secondi ma è globale appunti in ciausti primo montagna non ci siamo giovani secondi fa ma non ci credo ho perso anche i migliori giovani non che credo possibilità non ne abbiamo ne proviamo anche andando un po' più avanti così tanto per ok vediamo cosa riusciamo a fare dai comandone dai comandone ma stai zitta porca ok usiamo il gel e vediamo cosa combina il nostro cube il cube ci prova il cube è un po' pazzo un po' crazy il cube il cube è un po' crazy ci prova veramente con parecchio tempo d'anticipo e sta morendo giustamente e vabbè dai non avevo altre chance comunque non avevo coglioni insomma dai peccato per i migliori giovani persi per pochissimo come ha tenuto alla fine vince Taborre noi abbiamo tenuto comunque finiamo nella top ten sesti o settimi settimi vabbè non male ne ha perso una tappa in linea praticamente buono finisce qua il tour of slovenia alla fine vediamo come ci piazziamo purtroppo abbiamo perso il miglior giovani ma vabbè insomma peccatus vediamo la classifica vince il buon in ciaosti veneziano chiude a quarto globale a punti secondo montagna niente giovani perdo per 5 secondi formulo maledetto raga un saluto dal comendone veneziano ciao